Si è svolta nei giorni scorsi la seconda edizione del mini forum dei giovani soci e socie delle BCC della Federazione Marchigiana. Per parlarne sono i nostri ospiti il direttore della Banca di Ripatranzone del Fermano Vito Verdecchia e Riccardo Elzini, presidente dei Giovani Lab.com, associazione dei giovani soci che ha preso parte all'iniziativa. Direttore, quali sono stati i temi al centro di questo evento? L'evento è un evento che si svolge annualmente ed è organizzato dalla Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo con ovviamente il sostegno e il supporto della Federazione Nazionale. Come Banca di Credito Cooperativo ci siamo candidati grazie a Riccardo qui vicino a me come presidente del gruppo Giovani Lab.com che è il nostro gruppo giovani soci ad ospitare questo mini forum che si è tenuto appunto nei giorni scorsi. Il mini forum è un momento nel quale in una o due giorni, uno dei giorni nel corso della quale i gruppi dei giovani soci regionali, quindi nel nostro caso qui nella regione Marche, otto gruppi, si riuniscono appunto al venerdì sera e al sabato mattina per attività laboratoriali e formative finalizzati alla promozione, allo sviluppo dei valori che sono un po' i valori fondanti del Credito Cooperativo. Valori che sono scritti nella carta dei valori del Credito Cooperativo, nella carta della coesione che abbiamo soprattutto nel nostro articolo 2 dello Statuto che è l'articolo attraverso il quale viene espressa proprio quella che è la mission della banca. Quindi la promozione, la crescita del territorio a livello culturale e a livello inclusivo. E infatti il tema proprio del discorso del plurale, la parola plurale, è stata utilizzata proprio per cercare di coniugare persone e territori che caratterizzano questa regione e tutti i gruppi giovani soci. Quindi siamo stati molto onorati, siamo lieti, è andato molto bene. Ovviamente ringrazio Riccardo perché si è fatto veramente promotore e organizzatore e si è veramente sporcato le mani in questi giorni. Ecco Presidente, entriamo nel merito di questi due giorni. Sì, siamo partiti venerdì pomeriggio, primo marzo. Nel primo pomeriggio ci siamo riuniti tutti insieme accogliendo tutti i giovani soci provenienti da tutte le marche. Ci siamo visti alla chiesa di Sant'Agostino a Ripatranzone. Oggi è una chiesa sconsacrata, trasformata in una sala riunioni che fa parte dei Musei Sistini e il Piceno. Quindi hanno partecipato tutti coloro che fanno parte di associazioni giovanili all'interno delle 13 BCC marchigiane. Le abbiamo accolti noi giovani lab.com e abbiamo partecipato a tutta una serie di iniziative che prevedeva, che stimolava la partecipazione attiva da parte di tutti i presenti per scrivere a più mani in maniera cooperativa questa bozza di regolamento regionale dei giovani soci. Attività del venerdì che poi è stata funzionale per il sabato mattina. Il sabato mattina invece è stato un incontro un po' più istituzionale durante il quale c'è stato il coinvolgimento di direttori e presidenti delle varie BCC marchigiane. Aperto il sabato mattina al teatro Luigi Mercantini-Ripatranzone il nostro presidente della banca Michelino Michetti ed il sindaco di Ripatranzone Alessandro Lucciarini dei Vincenzi. Noi giovani soci abbiamo fatto un recap di quello che è emerso durante le attività del venerdì pomeriggio e degli obiettivi futuri dei giovani soci marchigiani. C'è stato un intervento anche dei nostri grandi ospiti dell'evento, i Bank Station, che sono influencer di educazione finanziaria. e c'è stato anche un momento salotto, un momento di confronto tra giovani soci e direttori e presidenti delle varie BCC, quindi tra giovani e figure apicali del credito cooperativo. Ecco, è stato un momento per pubblicizzare il credito cooperativo sul territorio, la banca, l'associazione e anche per dare risalto al comune di Ripatranzone e a tutte le attività locali che ci hanno aiutato nella buona realizzazione dell'evento. Grazie, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento su Radio Azzurra.